perché l'innovazione ha fretta e per questo la definiamo sotto l'ombrello dell'impazienza perché il tempo è quello che noi pensiamo sempre di aver speso meglio quando noi siamo prudenti quando cerchiamo di prendere delle decisioni e quando si parla di innovazione però c'è un assetto leggermente diverso da quello che noi siamo abituati a tenere quando parliamo di ricerca tra queste due cose facciamo confusione nella ricerca scientifica noi dobbiamo raggiungere dei risultati che abbiano una solidità importante abbiamo bisogno di tempo prepariamo tutto il percorso delle attività di ricerca perché ci sia il minimo rischio perché questo abbia successo e prendiamo le decisioni successive in base alle evidenze quindi vogliamo essere sicuri vogliamo essere pazienti e aspettiamo del tempo prima di diciamo utilizzare gli strumenti che vengono da questo percorso le attività di innovazione sono un po' all'incrocio però con quelle della ricerca perché per fare l'innovazione spesso si saltano alcuni passaggi che sono specifici della ricerca e soprattutto c'è un una parte che richiede sperimentazione continua ciclica che si fa in cicli cosa che comporta un certo rischio questo rischio deve essere certamente calcolata ma è molto poco digeribile per la maggior parte delle persone abituate allo standard della ricerca ed è una cosa che richiede fretta io credo che la pazienza sia sempre una virtù da coltivare e io lo faccio tuttora anche se con l'età vi posso garantire che è molto più difficile coltivare la pazienza alcune volte è necessario però davvero rompere gli indugi e andare verso strade che sono più rapide anche con la consapevolezza del fallimento possibile ecco questa è una cosa che secondo me noi per cultura non riusciamo ad ammettere quando si lavora sull'innovazione bisogna essere consapevoli che si può fallire e che il fallimento non è un demerito ma è un bagaglio che ci possiamo portare appresso per le esperienze future dovrebbe funzionare così noi questa cosa la viviamo sempre con un po' di morale in cui abbiamo fallito si è andato male a scuola è un po' la stessa logica non funziona così anzi lavorare attraverso progressivi anche frequenti fallimenti è la strada giusta per arrivare a un successo nella esperienza della pandemia da covid 19 la dimensione psicologico soggettiva è stata fortemente implicata perché per diversi mesi e comunque ancora adesso l'uni la il fattore più importante per determinare successo del contenimento dei contagi è il fattore umano se ci pensiamo cioè il fatto che la popolazione abbia o non abbia aderito a semplici regole comportamentali dal distanziamento fisico a lavarsi le mani a tenere la mascherina è stato per molti anni e per molti mesi ancora adesso eh la strategia primaria eh di protezione non solo del singolo ma di tutta la comunità e addirittura per la sostenibilità organizzativa del sistema sanitario in una situazione pandemica per non parlare eh della campagna vaccinale eh il mio libro eh che si intitola esitanti facendo l'occhiolino ad un problema gigantesco che è quello dell'esitanza vaccinale è un fattore di nuovo fattore umano un fattore che è splendidamente psicologico oltre che poi ovviamente comportamentale e sanitario di igiene pubblica eh che implica la non accettazione di una proposta di una campagna vaccinale e che addirittura l'organizzazione mondiale della sanità nel 2019 ha indicato fra le dieci principali sfide sanitarie globali a cui tutti i sistemi sanitari occidentali devono rispondere. Io penso che eh la psicologia sia stata fortemente implicata in questi anni di pandemia non soltanto per i lutti eh che che le perdite di vite umane hanno comportato purtroppo eh in in questa grande emergenza e per tutti gli altri lutti eh di di altra natura anche lutti economici, lutti alla perdita di libertà sociale, la perdita di relazioni eccetera eccetera. Questo certamente è una cote di quelli che gli studi psicologici stanno portando alla luce cioè la grande sofferenza, il grande trauma, il grande cambiamento emotivo che a livello individuale e collettivo eh questa emergenza ha portato con sé. È certo. Però quello su cui io punto un po' il dito è un altro aspetto della psicologia forse stereotipicamente poco considerato nell'opinione pubblica ma anche tra gli addetti ai lavori non psicologi talvolta anche però anche nella comunità psicologica perché anche noi stessi tendiamo un po' a nicchiarci soltanto su una dimensione di salute mentale e di fatica mentale dovuta a eh la malattia organica o alla malattia di natura psicologico-psichiatrica e però dicevo c'è tutta quell'altra cote di una psicologia applicata che è di fatto una lente di ingrandimento sui comportamenti individuali sociali organizzati e sul perché di non comportamenti. Quello che a me appassiona, che ho cercato un po' di raccontare semplicemente in questo libro è la non aderenza. Iniziare a parlarne, iniziare a decriptare quelli che sono degli i meccanismi del fattore umano che implicano l'aderenza e la non aderenza penso che per i singoli cittadini possa aiutare ad avere un po' più chiarezza eh di alcuni ostacoli al nostro comportamento razionale ma per gli operatori eh per gli addetti al lavoro può aprire forse almeno un po' al dibattito anche degli aspetti che spesso mh buttiamo fuori dalla porta ma ci ritornano dalla finestra perché poi ci troviamo al palo, non riusciamo a portare avanti il cambiamento terapeutico richiesto perché il paziente non ci sta e perché non ci sta beh forse al di là del fatto che sia più o meno informato su quella necessità è perché c'è una soggettività spesso poco compresa. Si sono sbagliate secondo me due o tre cose abbastanza cruciali, cioè ci sono due o tre cose su cui dovremmo interrogarci anche un po' come casi di studio. Uno sono quei medici che non si stanno vaccinando, operatori sanitari eccetera eccetera che peraltro lo rivendicano con orgoglio, fanno ricorso al TAR e così via. La comunità medica sta affrontando la questione in maniera probabilmente un po' ma dico anche io stessa, ieri sera me l'hanno chiesto in tv in maniera un po' un po' così come se ci avessero colto di sorpresa no? Mentre ci sono sempre stati in seno alla medicina come in seno a qualsiasi comunità umana delle persone un po' renitenti ad allinearsi all'eterodossia in questo caso a una campagna vaccinale durante una pandemia. Due c'è stato il disastro AstraZeneca che poi chiamiamolo disastro ma lì non si è riusciti a prendere, sostanzialmente a comunicare l'incertezza, cosa che per esempio la Merkel ha fatto in maniera molto più efficiente dire semplicemente questa cosa non la sappiamo, forse la sapremo, la stiamo studiando, però al momento non mi chiedete una parola precisa, un sì o un no su questo, ci arriveremo. Ecco una cosa del genere forse forse andava fatta, cioè bisogna essere un po', cioè diciamo la comunicazione è qualche regola che poi possiamo disattendere tutte le volte che vogliamo, però una di queste regole è che se dici una palla e poi ti beccano è un casino e quindi dire che certe cose sono assolutamente così e poi magari due settimane dopo cambiarle crea dei deterioramenti dell'autorevolezza che poi dopo si pagano sul lungo termine. La comunicazione è un mestiere da attaccanti, da attaccanti che eventualmente stanno a stare in difesa, ma che se stanno in difesa si sono preparati per stare in difesa. Non è possibile agire sempre a mettere le pezze, cioè bisogna, come uno fa il piano pandemico e prepara la distribuzione dei farmaci, eccetera, eccetera. Bisogna pensare che il piano pandemico deve avere anche un piano di comunicazione nella pandemia.